Ciao gente, buon anno! Con tutti questi ingredienti andiamo a preparare un piatto leggero leggero abbiamo fatto troppo e mangiate questo periodo preparati tutti gli straccetti di pollo adesso mettiamo un po' di sale e pepe e li lasciamo un attimo macerare infarinato per bene il nostro pollo in farina di fiore 00 mettiamo a scegliere una noce di burro in padella e giù il pollo ecco qua, adesso rosoliamo piano piano questo bel pollo impanato e dopo di che vi diamo una bella sfumatina con una birretta a questo punto prendete una bella Ceres e una forchetta e la aprite e sfumate per bene il pollo intanto prepariamo del succo di limone, di due limoni messo il succo di limone mettiamo delle foglie di sal di a menta meschiamo il quanto e mettiamo un coperchio per 10 minuti goccetto d'olio piccantino e impiattiamo scorsettina di limone salvia e rosmarino buoni 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 buoni